Bene, benvenuti in un nuovo appuntamento di Rabo e Talk, oggi un altro grande ospite, il designer Stefano Pasotti, che oltre ad essere un amico, grande professionista nell'ambito del design, ma anche, a me piace dire YouTuber, in quanto ha un canale YouTube estremamente pazzesco perché raccoglie quelle che sono tutte le icone del design, e la storia del design italiano, quindi un punto di riferimento importante e l'abbiamo invitato proprio per avere anche il suo punto di vista in merito a questo tema dell'impiego innovativo, creativo della gomma riciclata da pneumatici fuori uso, nell'ambito del progetto Rabo e appunto promosso da Ecopneus e benvenuto Stefano a questo incontro. Grazie, grazie mille avermi invitato, è sempre un piacere. Io sono un designer di prodotto industriale, infatti quando Marco mi ha mostrato il materiale è stato un bel colpo perché ci sono cose molto molto interessanti e il designer spesso parte proprio da questo, dai materiali per capire come poterne andare a riutilizzare, ad utilizzare nella maniera corretta, e qua in realtà ci sono tantissime cose di cui parlare. Tra le altre cose nel fuori onda parlavo proprio del fatto che uno di questi materiali l'ho visto molti anni fa proprio nell'ambito industriale e veniva riciclato per una questione proprio funzionale. ed è molto molto interessante perché ti dà la capacità di comprendere come in sostanza i materiali non scompaiono ma possono essere riutilizzati più e più volte e questo è stato qualcosa di interessante perché nel sito, non so se puoi condividerlo. Vuoi che te lo condivido subito? Vai, 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 vai. Assolutamente, eccoci. No, io vedevo, allora, mi sono subito preso strabene nel senso che sapevo che veniva utilizzato per, ad esempio, il settore per i giochi per l'esterno, per i bimbi. Io ho una figlia quindi capisco perfettamente l'importanza di cadere ed evitare praticamente di farsi del male. Però non solo quello, una cosa che a me è piaciuta molto, il fatto che ci sia la possibilità di realizzare delle suole. E quella è una cosa che secondo me è importante. Io sono una di quelle persone che ha avuto un infortunio abbastanza grave nella vita, un paio. Scegliere il tipo di scarpe sbagliato può veramente portarti a non uscire di casa quella mattina. E poter realizzare, ad esempio, delle suole o banalmente una strada realizzata in quel modo, una strada pedonale, può davvero fare la differenza, può essere veramente qualcosa di interessante. E io ignoravo che ci potessero essere tutte queste applicazioni. Nel senso che banalmente il primo articolo riguarda quello che sono le maniglie per le automobili. Significa che è un materiale che può essere industrializzato. Cioè, non è solo una questione che si possa fare un oggetto in maniera artigianale. Può essere messo all'interno di una filiera produttiva molto importante. E questo fa tutta la differenza del mondo. Scusa, mi sono andato come un treno, Marco, però... No, no, ma hai fatto benissimo e ti ascoltavo. Adesso torniamo di nuovo sul sito Raboi. Ma quando hai citato questa cosa delle scarpe, tu considera che mi è venuto in mente che proprio ultimamente Ecopneus, nell'ambito della sua attività di gestione, ricordiamo che Ecopneus comunque è un consorzio senza fine di lucro, nell'ambito della sua attività di raccolta e gestione di questi pneumatici a fine vita, promuove dei progetti e ultimamente ha proprio promosso un progetto per quelli che sono, diciamo, i calzazzoccoli dei cavalli. Ok. Perché? Proprio fatti con un compound di gomma e plastica, proprio perché sembra che con questi zoccoli, come se fossero delle scarpe per i cavalli, migliora enormemente la, diciamo, la camminata e la corsa del cavallo. Oltre a ciò c'è anche il fondo, diciamo, di quelle che sono le piste di atletica e anche, diciamo, di quelli che sono i camminamenti anche all'interno delle stalle che hanno dimostrato, ma proprio con dei test, che utilizzando questa gomma all'interno dei campi di gara, ad esempio spargendo del polverino, del granulo, oppure nelle camminamenti utilizzando queste pavimentazioni antitrauma, sembra che facciano molto bene al cavallo e quindi anche alla stessa circolazione. Quindi, quello che hai detto te è l'elemento estremamente importante, come applicazioni di questo materiale che è abbastanza nuovo, diciamo che si conosce, si inizia a conoscere da 10 anni. Io ti volevo mostrare qua, hai già visto qualcosa, alcuni prodotti, perché come designer, sai, fino a qualche anno fa se veniva detto, dai, utilizziamo la gomma riciclata per le maniglie della porta, insomma, per gli orologi, per i cinturini degli orologi o per i rivestimenti interni delle auto, o ad esempio per le sfilate di moda, insomma, si risultava un po' strano. Esatto, esatto. Più che altro sai cosa? Quello che a me è stupito, soprattutto del tessuto, è il fatto che possa essere così flessibile, perché, cioè, fino a quando sono granuli è una questione, ma quando diventa parte integrante, ad esempio, di un tessuto, è molto interessante, davvero molto interessante, perché ci puoi fare tante cose diverse, anche perché si deve adattare proprio, ad esempio, al movimento che ha una persona. Non facile, perché deve resistere a determinate sollecitazioni, se viene legato insieme a un altro materiale, è interessante, molto interessante, anche perché non viene... Vedevo da uno dei video che mi hai mandato che il materiale stesso può essere proprio suddiviso in più parti prima di essere poi utilizzato. È molto interessante, assolutamente. Sì, sì, perché la gomma la ricicla e poi decidi te che granulometria ottenere. Esatto. Dallo 0,4 allo 0,8, allo 0,8, 2,5, a secondo delle funzioni, tu poi lo puoi lavorare a freddo o a caldo. Addirittura anche... Tu hai ricevuto la Smart Box, no? Esatto. Tu hai ricevuto la magica dove vedi i vari campioni con le varie possibilità e hai diverse soluzioni applicative. E quindi quello che tu dicevi, diciamo, di questa possibilità anche di personalizzazione e di flessibilità di utilizzo è estremamente interessante. Ma una domanda ti volevo fare, Stefano. Sai, la percezione qualuncomune di molte persone è che essendo materiale derivante da pneumatici riciclati c'è una percezione in alcuni casi negativa. In realtà il pneumatico è realizzato con una gomma estremamente performante perché va a tenere la macchina sulla strada e quindi di conseguenza quando andiamo a riciclare questa gomma è la medesima gomma e quindi anche il prodotto che ne deriva è estremamente performante. Secondo te, come potrebbe essere, quale potrebbe essere la soluzione per, diciamo, convincere o meglio mostrare la performance di questo materiale e scardinare quella visione del, tra virgolette, rifiuto? Ok, sì. Allora, ti dico, negli ultimi anni io ho sempre, diciamo, lavorato un po' con i giovani, detto i giovani e io vedo che loro hanno una sensibilità molto più ampia rispetto a quelli che non hanno più vent'anni non diciamo vecchi perché non starebbe bene però io vedo che nelle nuove leve c'è una sensibilità maggiore quindi dal loro punto di vista spesso si parte proprio da materiali riciclati. Secondo me bisogna far comprendere tutte le potenzialità che ha un materiale come questo nel senso che quando mi è arrivato il prodotto fisico e quando mi hai mandato i link io mi sono subito reso conto di tutte le possibilità che ha quel tipo di materiale. Spesso le aziende hanno la necessità di poter, di dover raccontare una storia dietro al prodotto stesso questo può aiutare molto per sensibilizzare le persone per far comprendere che effettivamente l'oggetto che ha in mano viene da qualcosa di riutilizzato anche perché lo pneumatico, come dicevi tu è fatto di un materiale che è estremamente resistente cioè ci sono pneumatici che devono fare qualche migliaio di chilometri se pensiamo, anzi di più se pensiamo agli pneumatici per i camion cioè resistono a veramente delle cose incredibili quantità di chilometri infinite e sono ancora lì è comunque un materiale molto molto nobile dal mio punto di vista quindi da quello noi davvero possiamo fare qualunque cosa è giusto il riuscire a raccontare ai progettisti cosa potrebbero fare con quel tipo di materiale e il box che avete realizzato secondo me è la soluzione corretta perché in pochissimo ti fanno comprendere tutto le potenzialità e tutto quello che si può realizzare una cosa che a me è stupito di quel box è ad esempio quando ci sono i vari livelli cioè ti mostra in diversi livelli che cosa puoi andare ad inserire e dove può essere utilizzato e quella è una cosa molto interessante dal mio punto di vista cioè banalmente oltre al rivestimento che può essere messo all'interno delle pariti per evitare il passaggio del calore o del caldo e del freddo ma proprio il fatto che può essere integrato anche con altri materiali prima mi mostravi quella sorta di materiale in bambù che può essere piegato quella secondo me è una cosa interessante infatti una cosa che ti volevo chiedere è ma è possibile fare anche delle mattonelle banalmente? sì sì hai toccato un po' di temi trasversali e c'è tratto un po' la questione allora da una parte condivido appieno che i giovani stanno diciamo crescendo con un'altra visione un po' più aperta tra l'altro leggevo oggi sul giornale che si può dire anziano dai 75 anni in su cioè almeno io personalmente ho ancora un po' di tempo da questo punto di vista e quindi i giovani è vero sono un po' più reattivi e sono un po' più open diciamo così sono più smart rispetto a queste tematiche e hanno meno preclusione sì prima ti mostravo direi di dimostrare alcuni esempi che è un progetto che abbiamo sempre fatto con il Copneus dove abbiamo preso dei tappeti in gomma riciclata sui quali siamo andati ad accoppiare dei tranciati di diversi materiali vedi? sì in questo caso è bambù ora il tema interessante qual è? che se io avessi preso il bambù senza accoppiarlo e avessi fatto questo lavoro il tranciato di bambù si sarebbe rotto rotto una volta accoppiato alla gomma riciclata da Pfu cioè possiamo arrivare ad arrotolarlo ok? sì senza avere nessun tipo di problema ma questo l'abbiamo fatto col tranciato di bambù l'abbiamo fatto con tranciati ad esempio di legno questo poi è incredibile perché adesso qua sì 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 c'entra la telecamera vedi no? è una cosa incredibile flessibilità pazzesca e poi abbiamo fatto anche delle altre sperimentazioni con la carta no? questa è una carta molto particolare e l'idea qual era? era quella di fare un po' dei rivestimenti insomma da parete che seguissero ma infatti una cosa del genere mi fa venire in mente la possibilità di realizzare dei mobili dei mobili che hanno la possibilità di aprirsi sfruttando però la flessibilità eh questa è una bella idea perché davvero ci sono dei mobili che sono a scorrimento praticamente l'anta scorre verso il retro secondo me potrebbe essere sfruttato proprio per fare questo genere di cose perché il problema è spesso che quando vengono fatti questi oggetti bisogna fare delle lavorazioni in più sul mobile e che hanno un costo elevatissimo per poter permettere al legno di piegarsi se invece viene trattato in quel modo è un altro paio di maniche quindi il materiale diventa sicuramente più funzionale e più veloce da realizzare quella è una cosa interessante ma più cose mi stai facendo vedere più veramente mi stanno uscendo sì diciamo che poi una delle caratteristiche è anche quello dell'isolamento acustico di questo materiale quindi provo a pensare sempre nell'ambito dell'arredo i separé che poi nulla vieta di avere rivestimento, gomma, poliestere gomma e rivestimento una sorta di sandwich naturalmente rigorosamente separabile per creare delle personalizzazioni che diciamo manualmente te le vai a gestire te le vai a customizzare mentre quelli di oggi sono generalmente dei divisori abbastanza prestampati quindi termoformati da poliestere ecco diciamo che in quest'ambito ci sono ci sono varie soluzioni e dall'ambito diciamo dei rivestimenti ti volevo anche mostrare ad esempio noi ma come provocazione ne parlavo proprio anche con Aldo Cibic e ha detto è molto una provocazione perché lui ha detto sostenibilità sì ma bella deve essere bello diciamo il design sostenibile abbiamo realizzato diciamo questi questi progetti di qualificazione nell'ambito urbano ma più che altro io ti volevo far vedere anche queste proposte che abbiamo fatto di elementi di arredo urbano naturalmente capisci che sono dei render ma era per spiegare che cosa la lavorabilità di questo materiale quindi la possibilità di andare in colata e infatti te lo volevo chiedere può essere fatto in stampaggio rotazionale? allora stampaggio rotazionale non so se qualcuno ha fatto la sperimentazione ma penso sia abbastanza difficile però può andare in colata a freddo uno dei vantaggi che essendo un materiale pesante quindi il peso che in alcuni casi è una negatività qui diventa una positività perché arredo urbano lo puoi anche andare ad ancorare come già vengono fatti ma l'idea è che gli puoi dare qualsiasi forma creare anche una personalizzazione di colore l'importante non lavorare sui sottosquadri altrimenti dovresti lavorare più elementi accostarlo diciamo ad altri materiali però queste che sono idee provocazioni che possono essere scaricate ma per permettere ai designer agli studenti creativi anche di proporre nuove soluzioni esatto esattamente e quindi l'arredo urbano è uno dei temi tu dal tuo punto di vista come lo vedi il tema dell'arredo urbano io lo vedo molto cioè vedevo sempre da Cibic dall'intervista che hai fatto la possibilità di andare ad applicare questo genere di prodotti in tantissime situazioni diverse ma più che altro perché la cosa che a me stupisce è la resistenza alla sollecitazione cioè cose del genere sono estremamente estremamente resistenti a qualunque cosa cioè dagli agenti atmosferici banalmente il teppista che viene a prendere ammazzata il prodotto no no a me piace molto e sai cosa si potrebbe creare una linea molto molto riconoscibile per far comprendere meglio il prodotto secondo me quello potrebbe essere la chiave quindi riuscire a creare una linea di prodotti che sono estremamente riconoscibili da parte dell'azienda e che fanno immediatamente comprendere da dove arriva il prodotto cioè banalmente l'arredo ad esempio urbano fatto magari in quel modo io non avrei mai pensato che si tratta di ad esempio una ruota di un'automobile riciclata cioè secondo me quello sarebbe un aspetto interessante da far comprendere la tracciabilità del prodotto perché poi sembra una cosa assurda ma è reale tu pensa che c'è un sistema di raccolta di questi pneumatici a livello nazionale per cui è possibile fare la tracciabilità dai gommista fino al produttore al trasformatore ora lasciamo perdere quelli che lo vanno a buttare a conferire abbandonare diciamo questi pneumatici che è un danno per l'ambiente però un corretto smaltimento permette appunto di avere una tracciabilità e quindi di creare un prodotto territoriale gli pneumatici provenienti dal comune di Milano provenienti dal comune di Roma si sono trasformati in nuovi arredi sì bellissimo sì sì sarebbe un contesto fantastico è quello no 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 ma infatti quello sarebbe fantastico assolutamente assolutamente sì più che altro perché sai cosa che ti rendi subito conto cioè inizi a dare più importanza più valore a quello che hai attorno e inizi a comprendere tutto è un po' quello la cosa interessante cioè la responsabilità che ha un progettista oggi è proprio quello di valorizzare il prodotto e far riflettere chi utilizza quel prodotto a da dove viene e come viene realizzato secondo me quello potrebbe essere veramente la chiave per un prodotto di questo tipo oltre al fatto che è versatile che è secondo me è una cosa fantastica il fatto che possa essere così tanto versatile è interessantissimo tu che col tuo canale youtube seguitissimo hai praticamente un quadro della storia del design e vai a raccontare storie di un design che dal dopoguerra ad oggi è stato caratterizzato da grandi maestri quindi pezzi di design che raccontano una storia e tu prima parlavi appunto di questa storia di questa tracciabilità cioè secondo te oltre a questo fatto di raccontare la provenienza quali diciamo la provenienza del materiale quali potrebbero essere gli alimenti a carattere ambientale sociale ma culturale del design che potrebbero arricchire dei prodotti che per l'appunto utilizzano gomma riciclata da pneumatici fuori uso sì allora il mondo del design è stato caratterizzato da è ancora oggi caratterizzato da tantissimi tantissimi prodotti che hanno segnato la storia quelli che hanno veramente segnato la storia arrivano magari da mondi progettati da persone che arrivano magari ad esempio dal dopoguerra che hanno vissuto il dopoguerra che hanno vissuto situazioni pesanti e spesso quei prodotti sono passati alla storia ma perché hanno un concetto estremamente onesto estremamente pulito estremamente funzionale io ho avuto la fortuna l'altro giorno di trovare un documento video di Achille Castiglioni che spiega in 40 minuti tutte le sue lampade tutte e le spiega in una maniera estremamente semplice ma la cosa incredibile che non dà valore a mi sono ispirato a ma dà valore a ho utilizzato questi materiali perché ho dato questa forma perché e questo fa tanto la differenza secondo me progettare oggi un prodotto partendo da questo materiale potrebbe essere interessante proprio per progettare un prodotto in maniera onesta e raccontarlo soprattutto cioè ora non ti ho chiesto la densità che ha questo materiale per non lo so centimetro quadrato centimetro cubo ma cioè tu immaginati anche solo una base una base per una lampada fatta in questo modo cioè se ha un peso abbastanza importante potrebbe essere anche utilizzato in sostituzione di qualcosa cioè banalmente pensa alla lampada arco se pesasse se la densità di di questo materiale fosse attorno ai 40 chili per il volume della base della della lampada arco potrebbe essere una bellissima provocazione per far comprendere che cosa potrebbe essere o tuve potrebbe essere utilizzata una cosa del genere sì allora è un materiale pesante ma non così pesante andiamo dai dai 300 fino agli 800 in alcuni casi se non sbaglio anche 900.000 chilogrammi a metro cubo è pesante oddio è pesante caspita sì sì però però la lampada arco insomma il basamento che adesso ha è un basamento è marmo sì è marmo dice anche una questione di sicurezza però il tuo ragionamento è perfetto ascolta tu hai citato Achille Castiglioni che per me è tra quelli in testa la top ten degli designer favoriti e il mio sogno è prima o poi lo farò di acquistare un mezzadro da mettermi in casa ma devo aspettare che i bambini crescano per evitare che quel mezzadro abbia una merita esattamente allora dal tuo punto di vista so che è difficile rispondere ma se Achille Castiglioni avesse la possibilità di progettare qualcosa con utilizzando la gomma riciclata secondo te che tipo di prodotto progetterebbe proprio in relazione a quello che hai detto ce n'è già uno secondo me ce n'è già uno e si potrebbe andare da Zanotta a dire ascoltate un attimo ma perché non proviamo c'è una seduta che arriva è una seduta che arriva dal sellino di una bicicletta il basamento sotto è una semisfera che potrebbe essere utilizzata proprio per quel tipo di prodotto cioè per utilizzare questo materiale all'interno detto questo questo è un materiale secondo me molto versatile per quanto riguarda l'elasticità quindi io sono certo che l'avrebbe utilizzato ad esempio per fare un qualche tipo di scarpa Achille Castiglione aveva l'incredibile capacità io ho conosciuto una famiglia e ho visto dove disegnava spesso come sembra nei film si vedono i progettisti che progettano in questi studi giganti e cose del genere no lui progettava in uno sgabuzzino con un'altezza di tipo 4 metri e ha degli scaffali con dentro qualunque tipo di materiale qualunque tipo di oggetto che lo ha ispirato e sono certo che questo materiale sarebbe all'interno del suo studio e sono certo che sfrutterebbe questo materiale proprio per l'elasticità quindi se ci fosse ancora dal mio punto di vista lo utilizzerebbe proprio per fare qualcosa del genere o lo utilizzerebbe per fare un qualunque tipo di imbottito perché lui è stato il maestro della luce sicuramente però qualcosa che è sicuramente passato nella storia chiaramente per la luce però anche per tutto il resto quindi secondo me gli imbottiti andrebbe su quel mondo lì andrebbe su qualcosa che è più elastico quindi secondo me è sicuramente un paio di scarpe o lavorerebbe sulla suola perché io appena visto questo materiale appena mi è arrivato proprio il box ho detto no caspita suola sicuramente suola sì c'è già qualcuno che appunto fa le suole eh ho visto ho visto infatti con questo materiale e anche se oggi le suole in gomma naturale fra l'altro ha detto che la gomma naturale rientra tra le critiche Aromaterial quindi materiali che saranno oggetto di una prossima direttiva appunto sulla diciamo la tutela di diciamo di questi materiali per la scarsità e per la scarsità di reperimento a livello internazionale ok e quindi Achille Castiglioni ok secondo te se tu dovessi oggi come oggi rispetto ai designer presenti sul mercato dire gomma riciclata l'accoppiamento la copierei con questo designer ah gomma riciclata con questo designer di oggi si con il designer di oggi Jasper Morrison sì allora Jasper Morrison allora stiamo vivendo un periodo complesso eh oggi nel senso che il design si divide principalmente in due in due categorie eh designer estremamente funzionali estremamente precisi eh preparati e designer che sono esattamente l'opposto tra i designer molto preparati c'è Jasper Morrison e secondo me è uno come lui sarebbe in grado di prendere un oggetto un materiale di questo tipo studiarlo per magari un anno e poi far uscire una serie di oggetti in collaborazione con aziende che possano eh collaborare insieme a lui per poter fare qualcosa di grande sì non ce ne sono molti oggi di designer così e Stefano Pasotti se domani mattina dovesse partire qualcosa ci hai accennato prima dovesse partire con un'idea di progetto sì cioè un'azienda del settore italiano un'azienda che lavora la gomma sì in Italia mi chiama Stefano Pasotti per dirgli bellissima la tua intervista eh bene voglio fare qualcosa che cosa facciamo ok io lavorerei nel campo nel campo sportivo quindi lavorerei tutto quello che riguarda ad esempio Technogym io lavorerei con loro perché loro hanno fatto una serie di prodotti che possono essere utilizzati ce n'è uno in particolare che è un Tapirulan non ho mai avuto che fare con Technogym però se dovessi lavorare se dovessi lavorare con questo materiale lo farei con loro perché ci sono delle cose che possono essere utilizzate proprio nel settore sportivo hanno fatto un Tapirulan che non è il classico Tapirulan dritto ma un Tapirulan molto particolare che simula la corsa ad esempio in un bosco e quindi ci sono delle situazioni in cui il terreno non è perfettamente dritto ma ci sono delle imperfezioni io lo utilizzerei ad esempio in collaborazione con loro per fare quelle parti ma per magari anche fare altre parti che possono essere utilizzate sempre nel campo sportivo quindi sport riabilitazione o simili c'è anche tutto quello che riguarda io ho giocato a football americano ci vedo molte cose all'interno per il football americano però quella è un'altra storia quella è un'altra storia no tu citavi le palestre in realtà è un materiale che viene ampiamente utilizzato nelle palestre soprattutto nelle palestre dove ci sono i pesi per andare ad ammortizzare il rilascio proprio dei pesi ma ho visto dei progetti bellissimi anche di tutte le pavimentazioni fra l'altro hanno fatto anche aziende diciamo consultate Copneus hanno fatto diverse interventi nelle caserme dei Carbinieri nelle palestre dei Carabinieri dei Carabinieri ma non solo e a livello internazionale ho visto anche queste pavimentazioni in gomma con tutta una serie di disegni di personalizzazioni di customizzazioni perché poi uno ci può stampare sopra che creano diciamo anche quel fascino se vuoi del diciamo del del fare l'opera d'arte come se fosse una tela esatto una cosa non so se è possibile farlo ma anche una cosa che secondo me avrebbe una bellissima applicazione è anche quello che riguarda il tappeto di casa che sembra una cosa lasciata lì ma anche il tappeto di casa potrebbe avere questo tipo di applicazione no più che altro sai perché perché io lo vedo da siamo entrambi genitori io ho una figlia di tre anni e mezzo quasi quattro e all'inizio devi mettere sempre il tappeto quello da bimbi che ti serve a evitare che i bambini in sostanza si facciano male se si potesse fare un tappeto di quel tipo ma con uno stile più moderno cioè banalmente utilizzando il bambù tu lo metti in salotto se ti deve arrivare un qualsiasi genitore un qualsiasi amico o qualsiasi altra cosa non è che devi sbaraccare tutto il salotto perché avvengono gli ospiti lasci il tappeto così com'è il bambino lo può utilizzare senza farsi male e non devi sclerare perché io l'ho visto con i tappeti di casa che ogni volta che doveva arrivare un ospite dovevamo correre a spostare qualunque cosa perché era molto cioè non è infantile però era molto ingombrante e non era bellissimo da vedere in un salotto mentre se si potesse fare una cosa del genere io penso ai bambini sarebbe fantastico allora guarda ti dico che molti tappeti di ingresso delle case quelli che qualcuno chiama zerbini sono fatti proprio con un bicomponente dove sotto c'è la gomma riciclata e sopra viene accoppiato con un altro materiale quindi insomma l'idea c'è il problema è che per ora l'innovazione si è fermata lì diciamo si è fermata al tappeto di ingresso ma no bisognerebbe esatto no 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 ma qui bisognerebbe arrivare bisognerebbe arrivare a collaborare con un'azienda in tal senso quindi bisognerebbe unire il designer questo materiale e un'azienda che voglia veramente investirci perché secondo me questo ha un'applicazione ottima assolutamente ottima ma soprattutto bisognerebbe lavorare molto sulla comunicazione cioè banalmente io l'ho visto fare l'ho visto fare anche in aziende di abbigliamento che ti dicono questo materiale è fatto con questo numero di bottiglie e se si potesse fare la stessa cosa con gli pneumatici cioè questo materiale questo oggetto è fatto con tot bottiglie grazie a questo è stato risparmiato tot grazie a questo bla 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 sarebbe una bella sarebbe una cosa interessante se si potesse unire insieme questi tre elementi quindi l'azienda il designer e questo materiale secondo me sarebbe una bomba assolutamente le applicazioni su questo ce ne sono veramente molteplici poi hai chiesto a me Marco io sui materiali veramente vado in fissa quando mi hai iscritto la prima volta e mi hai fatto vedere il materiale io il sito ve lo sono guardato tutto no mi fa molto piacere fra l'altro ogni volta che noi parliamo nei vari talk o partecipiamo alle conferenze il tempo vola tant'è che abbiamo tra virgolette sforato di due minuti perché ci siamo dati sempre la mezz'ora sono poi diciamo è una chiacchierata ultra piacevole però sai si cerca sempre di rispettare un po' il target guarda un'ultima domanda più che altro un'ultima riflessione perché ci hai detto tante cose bellissime oggi hai dato tanti spunti interessanti a livello diciamo culturale si sta andando verso una transizione che si chiama transizione ecologica dove poi dalle parole bisogna mettere a terra i fatti secondo te cioè dalle parole bisogna appunto dare concretezza poi coi fatti secondo te questo tema della sostenibilità questo tema dell'economia circolare come designer quale sarebbe la migliore modo per tradurlo all'interno dei prodotti in termini di linguaggio verso il consumatore cioè come il prodotto dovrebbe dialogare con col consumatore sì ok vi parlo un po' dal punto di vista del progettista e del papà assolutamente io vedo che se ad esempio do responsabilità a mia figlia vedo che lei è in grado di crescere di comprendere che una determinata cosa va fatta in quel modo per un determinato motivo mia figlia ha tre anni e mezzo le ho insegnato le stiamo insegnando tra le varie cose a come riciclare e più che altro non è il devi fare così perché deve essere fatto così no devi fare così perché può aiutare a essere riciclato riciclare vuol dire che questo materiale può essere riutilizzato più volte eccetera eccetera anche perché io viaggio spesso tra Brescia e Bologna e mia figlia mi chiede ogni volta che arriviamo a Brescia che cos'è quella torre blu che si vede e io ogni volta devo spiegargli che è un telemovalorizzatore spiegare a una bambina di tre anni e mezzo che cos'è è un casino anche alle persone più grandi alcune volte esatto esattamente quindi secondo me l'idea è quella di riuscire a responsabilizzare le persone perché una volta che hanno una responsabilità hanno in mano qualcosa sono responsabili di quello che stanno facendo si comportano anche in maniera diversa quindi secondo me questo è importante ed è un messaggio che deve essere passato alle persone e per poterlo passare serve un lavoro sia sui materiali che comunicativo banalmente anche nel packaging e come viene raccontato quel tipo di prodotto perché quello può fare tutta la differenza del mondo è come io mi trovo di fronte a volte a collaborare con aziende che fanno prodotti nel lusso e magari ci sono non lo so maniglie che costano tantissimo e però bisogna spiegare al cliente perché costano così tanto perché ci sono determinate situazioni in questo caso bisogna spiegare perché viene utilizzato questo materiale e come può essere utilizzato secondo me questa parte potrebbe essere molto interessante da far comprendere al cliente se noi riusciamo a fare questo passaggio il cliente stesso poi sarà più responsabilizzato anche nella vita quotidiana cioè banalmente sembra una cavolata ma banalmente il riciclo di un materiale più noi andiamo avanti più diventa fondamentale questo poi diventerà diventerebbe un discorso lunghissimo però è è questo secondo me il fulcro della situazione grazie guarda grazie grazie veramente Stefano di aver partecipato a questo Rabway Talk è un contributo importantissimo un ringraziamento naturalmente naturalmente a Ecopneus che promuove questo didattito e spero ci sia modo intanto noi periodicamente ci rincontriamo e di parlare e di continuare a parlare grazie ancora Stefano Pasotti designer e noi ci vediamo al prossimo appuntamento perfetto grazie 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 grazie